Musica Venerdì 31 maggio, ben ritrovati e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale interregionale. Abbiamo già visto insieme le prime pagine dei giornali nazionali e regionali che troviamo oggi in edicola, abbiamo anche visto come siano variegati i temi sul tavolo, la politica internazionale, il conflitto in Medio Oriente, per quanto concerne la politica interna, il discorso del Premier Meloni alla Camera e poi c'è la cronaca per quanto riguarda invece i fatti pugliesi. Con questo episodio veramente gravissimo avvenuto a Bari, il crollo di una parte del solaio di una piscina ed è stata soltanto una tragica fatalità se non si è consumata una vera e propria tragedia. Iniziamo da qui con Claudia Carbonara. Pomeriggio di paura a Bari in via Lioce nel quartiere Poggio Franco. Tre persone sono rimaste ferite a seguito del crollo di parte della controsoffittatura della piscina di un noto centro sportivo. I feriti sono due minoregni e un'istruttrice. Gli altri allievi erano usciti dalla vasca perché i corsi erano appena terminati. L'istruttrice, 34enne, ha riportato un trauma dorsale e ad una gamba ed è stata portata all'ospedale di Venere di Bari. Una ragazzina di 14 anni è stata condotta al policlinico per un trauma toracico addominale. Un bambino di 7 anni ha invece rimediato una distorsione. Sul posto sono giunti anche i sommozzatori dei vigili del fuoco, oltre alla polizia scientifica, che sta indagando sull'accaduto. La zona è stata cinturata. Tanta paura non solo tra i presenti, ma anche tra i genitori che attendevano i figli fuori dalla struttura, come il signor Francesco, padre di un ragazzino che ha scampato per poco il pericolo. Avete assistito alla scena? No, no, alla scena non ho assistito. Ho lasciato il bambino alla sua lezione alle 4.20. L'ho portato in ritardo, ma poi dopo l'ora sono andato a riprenderlo qui, ma era già successo il crollo. Ho trovato mio figlio qui sul ciglio della porta della piscina, che stava piangendo, lo stavano vestendo, perché era nudo praticamente. E che è crollato il soffitto, il bambino poi piangeva, poi mi ha detto che è crollato tutto. Poi ho sentito un istutice che piangeva, che mi ha detto un minuto e è successo, è crollato tutto. Ora suo figlio come sta? Sta meglio, l'ho fatto controllare in ambulanza dai medici. Ho un piccolo graffietto al ginocchio, un piccolo gonfiore, ma tutto a posto, tutto ok. Fortunatamente sta bene. E poteva davvero essere una tragedia. Vediamo come hanno trattato l'argomento i giornali. Iniziamo dal quotidiano. Cede il solaio della piscina. Due ragazzine tra i feriti. Tragedia sfiorata in una struttura sportiva al quartiere Poggio Franco. Cede il controsoffitto e travolge un'istruttrice, una 14enne e una bimba di 7 anni. Evacuati gli inquilini dello stabile. C'è l'inchiesta per lesioni. Guardate la foto interna. È impressionante. È venuto giù gran parte del solaio. E qui i vigili del fuoco nella piscina per mettere in sicurezza la zona. Doveva essere un tranquillo pomeriggio in piscina come tanti altri. Quello di ieri invece si è trasformato in un incubo. Trauma toracico per la 34enne istruttrice. Rimasta intrappolata sotto le macerie. Il terrore di un papà. Mio figlio ha solo 6 anni. Temevo di non rivederlo il suo racconto. L'infermiera poi del 118 abbiamo pensato al peggio. Ma fortunatamente è andata bene. Tenete conto che stando a una prima ricostruzione dei fatti pare che la lezione fosse appena terminata. Quindi i ragazzi stessero praticamente abbandonando la vasca. E poi c'è stato il crollo. Perché se il crollo fosse avvenuto mentre i ragazzi erano ancora in vasca probabilmente staremmo parlando di altro. Andiamo sulla gazzetta del Mezzogiorno. L'edizione di Bari. Cede parte del solaio. Paura in piscina. Tre feriti. Una istruttrice in codice rosso. Due minorenni. Non gravi. Vigili del fuoco e soccorritori in azione in appoggio franco per mettere in sicurezza la zona. Vedete questa mamma che porta via il bambino abbracciandolo ancora in accappatoio. Tragedia sfiorata. Gli altri allievi erano usciti da poco dalla vasca perché i corsi erano terminati. Il soffitto crollato alla Marco Polo. Si lavora in scuole vecchie e fatiscenti. La denuncia della Will. Poi si parla di sicurezza. Ma sono 56 i casi. Solo quest'anno. Per fortuna non è successo nulla. L'avviso di alcune crepe era già stato dato. Quindi il crollo del controsoffitto della scuola primaria Marco Polo di Palese non ha coinvolto né studenti né insegnanti. Il giorno dopo erano tutti regolarmente in classe. Ma l'episodio la dice lunga. sullo stato di salute delle nostre scuole. Questo è il grido allarme e la denuncia anche delle organizzazioni sindacali. Un altro caso che trova ampio spazio oggi sui giornali invece riguarda il calcio. O meglio, possiamo dire delle diramazioni del calcio che non amiamo troppo. il cosiddetto caso Bellomo. È chiaro che c'è da fare assolutamente luce su quello che è accaduto. Però secondo l'accuso ci sarebbero stati dei flussi di scommesse anomale sul calciatore che venne espulso addirittura dalla panchina in occasione del play-out tra Ternana e Bari. E così la federazione ha deciso di aprire un'inchiesta. Sentiamo. Era un rumor che circolava a Bari ormai da giorni con tanto di immagini di schede giocate. Ora la procura della Federcalcio ha deciso di aprire un fascicolo di indagine sull'espulsione di Nicola Bellomo nel corso della gara di ritorno dei play-out di Serie B che avrebbe generato un flusso anomalo di scommesse. L'espulsione del centrocampista barese è avvenuta al 33esimo del secondo tempo sul 3-0 per la squadra bianco-rossa. Bellomo era in panchina ed è stato espulso direttamente dopo un litigio con un raccatta palle. Il procuratore federale Giuseppe Chinè indagherà con l'Agenzia delle Dogane e Monopoli per accertare compiutamente i fatti. Il regolamento Sogei cui aderiscono le agenzie legali esclude il pagamento di scommesse su espulsioni per calciatori che siedono in panchina o perché mai entrati o perché sostituiti. In questi casi rimborsano la giocata. Il numero così alto di scommesse giocate però ha fatto accendere inesorabilmente i riflettori della giustizia sportiva non solo la FIGC. Anche la Lega di Serie B vuol vederci chiaro. Non è stato espressamente chiamato in causa l'episodio Bellomo ma alla luce dei recenti deferimenti e alle recentissime aperture di indagini relative a presunte condotte sportive di alcuni calciatori la Lega di Serie B ribadisce di essere al fianco della giustizia sportiva per garantire l'onorabilità e la credibilità del proprio campionato. Allora la Gazzetta commenta così l'espulsione di Bellomo finisce in procura federale flusso anomalo di scommesse il club però rischia solo una multa e il giocatore che qualora dovesse risultare colpevole di qualcosa rischierebbe la squalifica. Il quotidiano andiamo col nostro touch Bellomo espulso un caso il flusso di scommesse del mirino della procura una serie di puntate in alcune ricevitorie del capoluogo pugliese sul rosso del fantasista di casa in occasione della sfida di ritorno dei play-out contro la Ternana la federazione vuole vederci chiaro da qui la decisione di aprire una inchiesta. Vediamo all'interno la procura federale della federazione italiana gioco calcio ha aperto un fascicolo di indagini a carico del centrocampista del Bari l'indagine è scattata a causa di un flusso di giocate sull'espulsione del giocatore effettuato in alcune ricevitorie della città nel pomeriggio di giovedì il centrocampista che non è sceso in campo nel corso del match è stato espulso al 33esimo della ripresa quando con il Bari in vantaggio 3 a 0 ha discusso della panchina con un raccatta palle attirando l'attenzione della quaterna arbitrale dell'arbitro la penna che ha estratto il cartellino rosso Bellomo è stato squalificato per una giornata e multato di 5 mila euro dal giudice sportivo per avere si legge nel dispositivo alzandosi dalla panchina assunto atteggiamenti intimidatori nei confronti di un raccatta palle al quale non voleva restituire il pallone c'è da segnalare che in Italia molti bookmakers non pagano questo tipo di giocate se il calciatore non è in campo nel momento in cui viene espulso la giocata non viene convalidata e allo scommettitore viene rimborsato l'importo scommesso e va sottolineato anche che sull'espulsione del giocatore del Bari non è stato registrato un movimento di denaro che ha superato la soglia di allerta le indagini saranno portate avanti dal procuratore federale di giuste procuratore federale supportato dall'agenzia delle dogane e dai monopoli un fascicolo aperto qualche giorno dopo il deferimento al tribunale federale nazionale sezione disciplinare dei calciatori di altri calciatori per ancora il calcio scommesse giocatori che tra l'altro adesso eccolo qui casi analoghi nei giorni scorsi deferiti Pastina Letizia Forte Bregnola in realtà non sono casi analoghi nel senso che per questi giocatori il deferimento è scattato perché loro avrebbero scommesso e come sappiamo come saprete i testerati non possono in alcun modo scommettere né sulle proprie partite né sulle gare degli altri e non stare completamente fuori comunque dal giro delle scommesse insomma vedremo quello che accadrà adesso cambiamo argomento per parlare di quello che sta animando più di ogni altro contro la politica italiana la riforma della giustizia e scontro tra maggioranza e opposizione andiamo a Roma Francesco Manigrasso Carriere separate per i magistrati distinti tra quelli giudicanti e quelli requirenti con due diversi CSM e il sorteggio per la nomina di suoi membri oltre a un'alta corte come organo di disciplina delle toghe con a capo il presidente della repubblica sono queste le modifiche alla riforma della giustizia soft di Carlo Nordio approvata in consiglio dei ministri è una riforma che serve al paese ministro solo questo indispensabile i tempi ministro quelli delle riforme costituzionali speriamo il più breve possibile perché se non c'è un accordo ma c'è un'estrazione a sorte è chiaro che non ci sarà più una specie di debito nei confronti di chi ha dato i voti quindi liberare l'eletto dalle correnti è fondamentale solo per tenere come io ho detto più volte in equilibrio con una pari distanza dal giudice terzo che è quello che dà poi il giudizio finale tra accusa e difesa una legge che modifica la costituzione è un testo che ha bisogno di essere approvato da ciascuna camera con due successive deliberazioni a un intervallo di almeno tre mesi e lo spettro del referendum dietro l'angolo qualora mancassero i numeri ma è una riforma che proprio non va giù a parte delle opposizioni mandare via il marcio che c'è nei partiti anziché mandare via e cacciare i politici corrotti e collusi vogliono invece mettere la mordacchia alla magistratura separare carriere mettere sotto il potere esecutivo e impedire alla magistratura di andare avanti con le inchieste intacca la separazione dei poteri e insieme al premierato e all'autonomia differenziata smantella la costituzione lo fa tra l'altro con un testo pasticciato che indebolisce la magistratura diciamo che di un potere ne fa due mezzi è un attacco all'autonomia dei magistrati nel nostro paese che si collega alla svolta autoritaria voluta dalla premier Meloni con il premierato la presidente sta costruendo uno stato a sua immagine e somiglianza favorevole alla separazione delle carriere più Europa anche se critica la tempistica ci dica il governo se vuole approvare prima la separazione delle carriere o prima il premierato o vuole gettare fumo negli occhi degli elettori gazzetta del mezzogiorno separazione delle carriere la riforma parte dalla camera nordio stoppo al potere delle correnti alcune modifiche in vista la riflessione del guardasigilli la magistratura è stata indebolita soprattutto dagli scandali dal fatto che su questi scandali non è stata fatta luce completa l'iter il testo passerà al vaglio delle commissioni giustizie e affari costituzionali l'intervista parla romano esponente dell'associazione nazionale magistrati di Taranto un intervento punitivo problemi ancora irrisolti più che una riforma della giustizia è chiaramente un intervento punitivo nei confronti della magistratura la separazione delle carriere non apporterà alcun beneficio per i cittadini non è stato previsto alcun intervento per l'efficientamento della giustizia per un cambiamento migliorativo rispetto ai tempi dei processi non ne risulterà risolto attenuato il problema del sovraffollamento della popolazione carcerare non sono previsti aumenti degli organici amministrativi ecco se proprio vogliamo chiamarla riforma è una riforma della magistratura non della giustizia così Alessandra Romano giudice del Tribunale di Taranto e presidente della sottosezione ionica dell'Associazione Nazionale Magistrati comincia la sua analisi nessuna sentenza arriverà in tempi più rapidi aggiunge né quelle civili né quelle penali le indagini non avranno una durata più contenuta andiamo anche sulla Repubblica eccolo qui in particolare c'è questa intervista all'ex presidente del Senato Grasso ex magistrato Nordio offende Falcone non voleva le carriere separate così Piero Grasso ho davanti agli occhi la tomba di Falcone a San Domenico e sento che si sta rivoltando dentro solo direttamente la mia reazione è direttamente proporzionata dice Piero Grasso rispetto a quello che gli viene fatto dire è sempre stato lo sport più diffuso quello di attribuire a Falcone dopo la sua morte ed è che non l'avevano nemmeno sfiorato come il pululare di amici che invece in vita lo avevano accoltellato alle spalle purtroppo in questi anni è stata sventolata più e più volte la bandierina di attribuire a Falcone tesi che a lui non sono mai appartenute con l'obiettivo di conquistare una certa credibilità gli chiede poi Liliana Milella la giornalista che ha intervistato Grasso nel caso di Nordio le vede uno sgarbo un'offesa alla memoria oppure solo opportunismo ci vedo tutto questo è per giunta pure una fake news e ancora la giornalista lei sa bene però che circolano di continuo sue presunte citazioni proprio sulle carriere Falcone non sposava certe tesi risponde Grasso ma interveniva su una polemica già allora in atto sulle funzioni del PM per come veniva ridisegnato dalla riforma Vassalli del 1989 e ancora lei era amico di Falcone chiede la Milella ma pure giudice del suo maxiprocesso e poi con lui in via Renula per lavorare sulle riforme della giustizia come fa con i ragazzi delle scuole ci spiega se Falcone davvero voleva la separazione delle carriere lui non la voleva affatto risponde Grasso e le spiego perché con la riforma Vassalli il PM aveva assunto le funzioni che fino a quel momento erano state del giudice istruttore una figura che scompare in vista del nuovo sistema Falcone riteneva necessaria una maggiore specializzazione e professionalità del PM che doveva assumere compiti del tutto nuovi a partire dalla direzione delle indagini ma non ha mai ipotizzato di escludere il PM dall'ordine giudiziario anzi ha preteso che nelle nuove funzioni fosse garantita la sua autonomia e indipendenza andiamo anche sulla stampa c'è questa intervista a Giulia Buongiorno Giulia Buongiorno è noto legale ma anche rappresentante giustizia alla Camera presidente della commissione giustizia anche in Senato mai i PM controllati dal governo così più equilibrio tra accusa e difesa non sarà una riforma punitiva dice l'avvocato Buongiorno ma sono emersi scandali gravissimi che hanno minato la credibilità della magistratura e ancora anche Andreotti mi pareva di un'eccessiva politicizzazione della magistratura dobbiamo evitare il condizionamento soffocante delle correnti come avviene oggi capisco i dubbi del maestro Coppi ma anche lui sa che c'è il problema della vicinanza e poi critico invece il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte e i Togati diventeranno super poliziotti c'è il pericolo di una deriva autoritaria insomma tra l'altro si paventa anche la possibilità di uno sciopero dei magistrati vedremo quello che succederà nelle prossime ore e adesso torniamo a parlare delle elezioni iniziato il conto esce in vista delle prossime amministrative e ogni anno si ripresenta l'elenco degli impresentabili scusate il gioco di parole due a Bari tre a Lecce ma ci sono anche gli ex amministratori di comuni già sciolti per infiltrazioni della criminalità ecco la lista degli impresentabili alle urne sentiamo Antonio Bucci La Puglia ha 12 impresentabili in corsa alle prossime comunali si tratta di quei candidati che secondo le verifiche svolte dalla commissione antimafia violano il codice di autoregolamentazione senza però incorrere nell'esclusione dalla competizione elettorale tradotto potranno continuare a correre per uno scranno nei rispettivi comuni a Bari sono due distribuiti tra centro-sinistra e centro-destra ed entrambi rinviati a giudizio per bancarotta fraudolenta si tratta di Sigismondo con la suono della lista dei caro per Bari che si è già autosospeso fa sapere Vito Leccese e di Luigi Denitis di Fratelli d'Italia a Lecce sono tre tutti del centro-destra Raffaele Guido del Movimento Regione Salento Andrea Guido di Udc e Puglia Popolare e Filippo Montinari di Iosud nell'elenco figura anche un'aspirante consigliera di Manfredonia e poi ci sono gli ex amministratori di comuni già sciolti dopo l'insediamento della commissione del Viminale per infiltrazioni della criminalità come Neviano e Trinitapoli e il caso ad esempio dell'ex sindaco del centro della Batte Emanuele Losapio su questi enti è stata effettuata una verifica sulla base del codice di autoregolamentazione che prevede che siano in violazione del codice le candidature di coloro che abbiano già ricoperto la carica di sindaco e componente di giunte in comuni sciolti spiegano dalla commissione guidata da Chiara Colosimo Questo è un argomento che tratteremo poi con calma anche più tardi velocemente sul quotidiano di Bari liste ci sono tre impresentabili c'è chi ha già deciso di ritirarsi sono 12 in tutte i candidati alle amministrative di Puglia bocciati dalla commissione antimafia per violazione delle norme uno era in corsa per Leccese due in Lizza nel centrodestra con Romito e poi sotto la parola ai candidati come ogni giorno fa il quotidiano la parola ai candidati Stefano Branco Bari città d'Europa Bari diventerà una città a misura delle famiglie Sara Ambruoso di noi popolari ora più sostegno per il commercio puntare sul verde e Vincenza Guaragno della lista Romito sindaco ora riflessibili per i mercati e accentrarli dopo torneremo comunque sull'argomento degli impresentabili che tiene sempre banco alla vigilia delle varie tornate elettorali adesso torniamo invece a parlare del G7 perché insomma anche in questo caso è iniziato il contrarrovescio c'è grande attesa tantissime le misure ristrettive tante ancora ce ne saranno ma intanto dovrebbe essere dovrebbe essere definitivo l'elenco dei partecipanti al vertice dei grandi che come saprete si terrà in Puglio in particolare in provincia di Brindisi sotto la presidenza dell'Italia l'ultimo ad aver dato l'ok su invito di Giorgia Meloni è il premier Erdogan che parteciperà ai lavori il tavolo è pronto anche se continua ad allargarsi perché questo si sa sarà uno dei G7 più importanti di sempre gli argomenti sono tanti dettati da conflitti e crisi internazionali e così dalla Puglia dalla provincia di Brindisi il mondo attende risposte ma chi ci sarà attorno a quel tavolo oltre ai sette componenti proseguono le trattative non sono escluse sorprese quasi fosse un calcio mercato l'ultimo sì il presidente di questo G7 Giorgia Meloni lo ha incassato dal leader turco Erdogan il cui ruolo potrebbe rivelarsi decisivo sul conflitto tra Russia e Ucraina poi la formazione base il padrone di caso ovviamente sarà il premier Giorgia Meloni accanto a lei il primo ministro del Canada Justin Trudeau il presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il premier giapponese Kishida resta da scegliere lo schema ma la formazione è schierata non mancherà il primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak che avrà il record di essere il più giovane della squadra e grande attesa infine per il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sicuramente il più attenzionato sia sul piano della sicurezza che dei contenuti ad accompagnare il gruppo in qualità di invitata permanente l'Unione Europea rappresentata dal presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e dal presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen fin qui la squadra base che però sarà arricchita anche dalla presenza di Papa Francesco come annunciato diverse settimane fa che più volte in questi mesi si è anche espresso sui conflitti in Israele e Ucraina e dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohamed Al-Nayan fin qui il Dream Team dunque ma guai ad escludere possibili ulteriori novità Allora dalle 9.30 in mattina sud con Gianmarco Sanzolino dedicheremo molto spazio al G7 per capire quello che sta accadendo è un evento senza precedenti ma inevitabilmente sono anche dei disagi per i cittadini di Fasano e Brindisi in particolare perché le restrizioni sono tante di fatto si va incontro a delle vere e proprie zone rosse dei lockdown contrariamente a quello che ci si aspettava all'inizio e ogni giorno ci sono novità in questo senso il quotidiano titola proprio così G7 blocco dei voli passeggeri cieli chiusi per 4 ore la comunicazione di aeroporti di Puglia per lo scalo di Brindisi dalle 19 alle 23 rischiano di saltare i collegamenti da e per Milano Roma Parigi Ginevra obiettivo garantire arrivi in sicurezza per i sette grandi aggiungiamo noi come avevamo raccontato anche su Antena Sud che tra l'altro in quei giorni non solo quel giorno lo spazio aereo non sarà gestito dall'aeroporto di Brindisi ma da una control room di Roma questo anche nei giorni che precederanno il G7 per questioni di sicurezza scrive Alfonso Spagnolo sul quotidiano il caso di dire che non potrà volare neppure una mosca ironia a parte lo spazio aereo su Brindisi in occasione della scena d'apertura del G7 prevista la sera del 13 giugno al Castello Svevo sarà interdetto anche i voli commerciali l'interdizione varrà dalle ore 19 alle 23 lo ha reso noto Aeroporti di Puglia in una comunicazione diffusa sul sito ufficiale e ancora due zone chiuse una rossa intorno a Borgo e Ignazia e una gialla dove i controlli saranno attenuati la decisione di annullare i voli i singoli voli spostarne l'orario spetterà poi alle compagnie in base anche a quella che sarà la disponibilità poi c'è l'altro G7 chiaramente c'è un po' di preoccupazione anche per le proteste però ci sono anche quelle pacifiche che vengono organizzate in questi giorni G7 in piazza con la scena per i poveri la risposta al pasto luculliano dei potenti il 13 giugno mentre i potenti della terra saranno impegnati in una scena luculliana offerta dal presidente della Repubblica Sergio Battarella nello scenario della favola del Castello Svevo il tavolo di coordinamento no G7 organizzerà una controscena dei poveri in piazza Vittoria a partire dalle ore 20 che sarà preceduta da una serie di interventi degli organizzatori l'organismo contesta fortemente le politiche dei paesi ospiti del summit mondiale e oggi pomeriggio alle 18 ci sarà una manifestazione all'altezza dei giardinetti di piazza Vittorio Emanuele vogliamo portare all'attenzione dell'opinione pubblica spiegano gli organizzatori scelte che ricadano sulla nostra città come la dislocazione a Brindisi della nuova portaerei Trieste parleremo quindi di militarizzazione del territorio che i brindisini assaggeranno anticipatamente con i disagi che subiranno quando i capi di Stato verranno a cena al 13 giugno al Castello Svevo la manifestazione di protesta dal 14 giugno si sposteranno nella parte nord della provincia il 14 a Costa Merlata nella masseria Refrigerio per tutta la giornata si susseguiranno dibattiti su guerre riarmo migrazioni e energie dalla mattina del 15 si svolgerà poi l'assemblea finale contro le grandi opere costose e dannose nel pomeriggio i contestatori si trasferiranno a Fasano dove alle 15 è prevista una manifestazione unitaria nazionale contro il G7 con partenza da Piazzale Martinelli cambiamo argomento adesso cambiamo argomento perché ci fermiamo un attimo mi comunicano dalla regia per scoprire che tempo farà nelle prossime ore poi saremo ancora insieme con il nostro telegiornale la cronaca associazione a delinquere è finalizzata la commissione di reati tributari e riciclaggio a Barletta le fiamme gialle hanno sequestrato beni mobili immobili e quote societari nonché un intero complesso aziendale per un valore complessivo di oltre 355 milioni di euro sentiamo Maria Fiorella avevano messo su un meccanismo illecito finalizzato alla lievitazione dei costi della loro società abbattendo di fatti l'utile di esercizio e la liquidazione dell'imposta sul reddito oltre che dell'imposta sul valore aggiunto mediante l'esposizione di crediti IVA inesistenti per i principi costituzionali più si fattura e più si deve corrispondere l'imposta in proporzione ai guadagni fatturati per questo 5 persone sono state arrestate a Barletta con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari riciclaggio ed autoriciclaggio le indagini della guardia di finanza coordinate dalla procura di Trani riguardano una società che opera nella Cosmesi la Shogun con un valore d'affari pari a 60 milioni di euro la costruzione di un sistema artificioso per poter drenare quasi al nulla la ricchezza prodotta produce degli effetti distorsivi sul mercato del lavoro sulla concorrenza e sull'equità sociale in generale secondo l'accusa gli indagati tra cui un contabile ritenuto il deus ex macchina della frode dal 2017 avevano implementato un sistema illecito occulto in base al quale la loro società contabilizzava i costi connessi alle provvigioni di vendita fatturate con l'emissione di documenti fiscali oggettivamente inesistenti sono crimini questi che presuppongono la conoscenza delle norme in maniera approfondita e quindi anche la capacità diciamo più veloce e più scalda di trovare l'inganno alla stessa norma il vantaggio dunque era duplice da un lato la società godeva di una tassazione irrisoria dall'altro abbatteva quasi totalmente la base imponibile mediante la creazione fittizia di ingentissimi costi in capo alla società le norme sono state utilizzate in maniera abusiva e in maniera univocamente indirizzata a sottrarle la base imponibile degli enormi guadagni che la società faceva per poter corrispondere ad una tassazione quasi al minimo in questo modo avrebbero acquistato illecitamente numerosi beni di lusso e immobili molti dei quali sequestrati per un valore di oltre 355 milioni di euro la donna freddata dal cognato a colpi di pistola tra brindisi e mesagne il delitto sarebbe scaturito da futili motivi Gianmarco Di Napoli la partita giudiziaria sarà giocata su due fronti quello della possibile premeditazione e soprattutto quello dei futili motivi sarà su questi elementi che si deciderà il destino di Adamo Sardella il carpentiere di 55 anni che ha ucciso a colpi di pistola la cognata 47enne Irene Margherito la possibilità di poter accedere al rito abbreviato dunque ottenendo la riduzione di un terzo della pena è subordinata all'esclusione che il reato contestato possa prevedere il regastolo circostanza questa che invece obbligherebbe l'uomo ad affrontare un processo con rito ordinario davanti alla corte d'assise senza alcuno sconto di pena si tratta di questioni che verranno affrontate successivamente ma le cui basi vengono poste in questi giorni perché la PM della procura di Brindisi Paola Palumbo ha contestato a Sardella proprio l'aggravante dei futili motivi che oltre alle accuse di omicidio volontario della cognata e del tentato omicidio del compagno della donna rendono la posizione dell'indagato molto delicata sul fronte investigativo il magistrato sta per disporre l'esame autoptico che si svolgerà nell'obitorio dell'ospedale Perlino e probabilmente anche una perizia balistica fondamentale per determinare la dinamica della sparatoria solo in parte ricostruita con le telecamere che riprendevano da un'azienda la scena del delitto intanto come era prevedibile Sardella dopo l'udienza di convalida resta in carcere il suo legale Vito Epifani non ha avanzato alcuna richiesta al giudice preliminare Con le telecamere di videosorveglianza si scoprono truffe spesso anche furti ma questo ha davvero dell'incredibile a Taranto un uomo si è introdotto in una chiesa e ha portato via a modo di processione la statua di Gesù Gianmarco Stanzolino Chi esce a passeggio con una statua di Gesù alta quasi un metro probabilmente nessuno neanche più fervente credente e infatti la sua vista ha fatto incuriosire più di qualcuno a subire il furto in un pomeriggio qualsiasi è stata una chiesa di Taranto la Maria Santissima addolorata in via Iapigia incrociando le nostre immagini esclusive di videosorveglianza si nota come l'uomo dopo aver caricato il Cristo Redentore sulle spalle esce dalla chiesa e passando per via Leonida in bocca via Laclos ma adesso il ladro cosa ne farà adornerà il suo salotto di casa oppure la venderà per ottenere qualche soldo in ogni caso il gesto resta ignobile ci scherza su il parroco su Facebook che scrive fare di Cristo il cuore del mondo avrà pensato bene chi ha pensato di trafugarti davvero incredibile abbiamo aperto il nostro telegiornale parlando del crollo dei parte del solaio di una piscina di Bari fortunatamente senza gravissime conseguenze per un fatto gravissimo sul quale è stata anche aperta un'inchiesta ed evidentemente riporta anche all'attenzione di tutti quello che è lo Stato in cui versano diverse strutture spesso tra l'altro scolastiche che ospitano i nostri figli perché nell'ultima ore si è registrata paura anche a Palese siamo sempre a Bari dove è crollato il controsoffitto della scuola Marco Polo Domenico Brandonisi un crollo improvviso e che comprensibilmente ha destato preoccupazione ma che fortunatamente non ha comportato nessuna conseguenza sul piano umano e quanto accaduto alla scuola Marco Polo situata al quartiere Palese di Bari nelle scorse ore infatti è crollata una parte del soffitto ma nessuno in quel momento era presente all'interno dell'istituto e per questo motivo non si registrano feriti il tutto nell'androne dell'ingresso e una parte era stata già interdetta perché in data 27 maggio come si può vedere dalle immagini erano già state messe in risalto alcune problematiche urgenti da risolvere le elezioni si stanno svolgendo in maniera regolare e sul posto sono già intervenuti gli operai per ripristinare l'area interessata situazione dunque sotto controllo nell'attesa di tornare alla completa normalità andiamo sul quotidiano preside vede la crepa a scuola e scatta l'allerta per gli alunni aria interdetta poi il crollo lunedì il dirigente del comprensivo Marco Polo aveva chiamato il comune vigile del fuoco per verificare la sicurezza ad alcune parti del solaio il cedimento con gli operai al lavoro genitori allarmati tragedia sfiorata in una scuola primaria di Bari tutto iniziato lunedì scorso quando il preside del 27esimo circolo didattico di Palese Angelo Panebianco ha notato nel plesso delle crepe nel controsoffitto e da qui è scattato l'allarme le scene sono davvero inquietanti soprattutto se come abbiamo ripetuto anche prima consideriamo che questi sono i luoghi che ospitano i bambini i ragazzini insomma dopo quello che è accaduto in particolare nella piscina di Bari davvero c'è la massima allerta almeno ce l'auguriamo conta dei danni per gli agricoltori in Salento e in particolare a Nardo centri del Salento che ieri le immagini hanno fatto il giro dei social sono stati colpiti da una violentissima grandinata Francesco Schiavano un'ondata improvvisa di maltempo si è abbattuta nella tarda mattinata di mercoledì in molti comuni del Salento Gallipoli Casarano Lizzanello Parabite Melendugno le zone più colpite dove in seguito a grandine pioggia battente si sono registrati allagamenti di scantinati e cantine a Melendugno un tombino nei pressi delle scuole elementari è saltato creando una fontana d'acqua per strada colpite anche le marine vicine a causa della violenta grandinata nel centro cittadino di Nardovia 25 luglio è rimasta per diverse ore impraticabile ed è stata disposta alla chiusura dalla polizia locale la carreggiata infatti risultava ricoperta da un'abbondante coltre bianca provocata dalla grandine su tutto il territorio si sono registrate numerose richieste di intervento ai vigili del fuoco nessun danno ingente riguardo persone o abitazioni ad essere colpite maggiormente però sono state le campagne ai terreni della zona secondo quanto denuncia Coldiretti purtroppo è stato un vero l'ennesimo disastro forse uno dei più tragici vissuti in questi ultimi anni perché purtroppo ogni anno è sempre peggio e quello di ieri non ce l'aspettavamo ed è stata veramente tragica oggi ancora di più nella conta dei danni e diciamo che la stagione ormai è compromessa sicuramente ci attiveremo anche con Coldiretti con l'amministrazione comunale e di conseguenza anche la regione a chiedere uno stato di calamità cercando insomma di giungere a un ristoro per le aziende che purtroppo parlo anche io in prima persona abbiamo avuto dei danni e insomma sarà difficile risollevarci e andare avanti si è svolta nelle scorse ore un'ulteriore udienza nel processo relativo a un presunto giro di tangenti a Palazzo di Città a Foggia nell'inchiesta è coinvolto anche l'ex sindaco Franco Landella sciolta la riserva sulla utilizzabilità delle intercettazioni sentiamo Antonella Davola il sindaco affronta questo processo con la giusta prospettiva di avere la pazienza che ci vuole per poter dimostrare la verità dei fatti senza nascondere che chiaramente come tutti i processi penali si vive con una certa ansia udienza chiave è quella che si è svolta nelle scorse ore in corte d'assise del Tribunale di Foggia nell'ambito del processo su un presunto giro di tangenti a Palazzo di Città a carico tra gli altri dell'ex sindaco del capologo da uno Franco Landella del suo principale accusatore l'ex presidente del consiglio comunale Leonardo Iaccarino e altri 11 imputati i giudici hanno finalmente sciolto la riserva sull'utilizzabilità delle intercettazioni su cui si basano le accuse in aula per il controesame dei legali degli imputati il testimone chiave Luca Zariti all'epoca dei fatti procuratore della G1 società interessata all'appalto da 53 milioni di euro per la pubblica illuminazione al quale secondo l'accusa il sindaco avrebbe chiesto una tangente di 300 mila euro Sì per le intercettazioni sono state ammesse tranne tre ritte che riguardano il procedimento precedente tutto il resto è stato già ammesso e ieri è anche giurato il perito per le trascrizioni che a settembre poi verranno depositate e poi abbiamo sentito in controesame il test probabilmente principale dell'accusa per la vicenda della pubblica eliminazione il test azzariti a cui abbiamo potuto finalmente chiedere conto di quelle che secondo noi erano tante incongruenze nel suo racconto un suo giudizio un suo commento rispetto a come è andato questo controllo difficile dirlo nella prospettiva dell'accusa o del tribunale dal nostro punto di vista quello che volevamo far emergere è emerso che è un racconto che è viziato da una serie di incongruenze ed è per stessa missione del test e il racconto di un grande amico personale di HIV sono 25 gli episodi incendiari e i danni di auto registrati nel Salento due le intimidazioni con bombe e due i locali a fuoco Francesco Schiavano auto pulmini autocarri ridotti ad ammassi di ferraglia fumante attività commerciali rase completamente al suolo dalle fiamme o addirittura in alcuni casi da ordigni rudimentali a prendere fuoco sono vetture immobili di politici imprenditori gente comune poliziotti carabinieri e in molti casi soggetti già noti alle forze dell'ordine la maggior parte dei roghi sono di natura dolosa e questa è la fotografia di ciò che sta accadendo quasi ogni notte in Salento in particolare nella provincia di Lecce un territorio che da anni ormai fa i conti con gli episodi incendiari oggetto di discussione in numerosi comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica l'ultimo sul tema in ordine di tempo convocato dal prefetto di Lecce Luca Rotondi il 22 febbraio 2023 a Casarano tanti motivi alla base del fenomeno la cui varietà impedisce agli investigatori di inquadrarlo in un determinato contesto criminale o di dare risposte concrete al problema alcuni episodi sono riconducibili a contrasti di natura privata tra le persone coinvolte altri a motivi passionali in determinati casi la matrice dolosa è dettata da cause politiche negli avvenimenti più gravi sono il bollettino di una guerra tra gruppi criminali che si contendono il potere e usano il fuoco per poter stabilire una gerarchia o determinati assetti di comando l'obiettivo è uno solo incutere paura un messaggio lasciato con il fuoco che costa poco ed è abbastanza chiaro un'altra certezza sono i numeri i quali negli ultimi due mesi hanno subito un notevole incremento solo nel maggio 2024 in provincia di Lecce sono stati registrati 25 episodi incendiari ai danni di auto con una media di quasi un veicolo a notte un aumento di 10 mezzi rispetto ad aprile il quale ha registrato 15 auto andate a fuoco 9 barchi e 2 assalti al posta matt di Tricase e Castrignano del Capo due locali presi di mira dalle fiamme attività di ristorazione a Torre San Giovanni e Torre Squillace in Salento però negli ultimi 15 giorni è tornato anche l'incubo degli ordigni un bar prossimo all'apertura è stato oggetto di due episodi intimidatori nel primo caso la bomba non è esplosa nel secondo sì episodi di violenza che richiedono una presa di posizione da parte di tutti oltre al lavoro delle forze dell'ordine L'inchiesta sugli autovelox dopo la riforma voluta dal ministro Salvini cambiano le norme ma cambia anche il lavoro della polizia locale Ottavio Cristofaro Questo è un classico autovelox che viene installato su treppiedi quindi su tripode e ovviamente riguarda una postazione mobile di cui è dotata di una telecamera che rilieva gli scatti fotografici del veicolo che infrange il limite di velocità di un display per poter controllare al momento il veicolo che ha ovviamente superato il limite della velocità e ovviamente di questa barra che praticamente è poi il centro principale di tutta la strumentazione E legge la stretta anti-autovelox per installarli ai sindaci servirà il via libera del prefetto in Puglia e Basilicata sono posizionati su numerose strade in postazione fissa e fino a ora utilizzati di frequente anche in postazione mobile ma cosa cambierà per le forze di polizia? Innanzitutto nei centri arbitrati quindi nei centri urbani con velocità in cui il limite è 50 km orari praticamente non sarà più possibile azionare tali strumenti tra l'altro per quanto riguarda le classificazioni delle strade ovviamente non si potrà scendere nei rilievi a una velocità inferiore ai 20 km faccio un esempio su una strada extraurbana principale cui limite è di 110 km orari il limite massimo rilevabile potrà scendere solo sotto 20 km orari ovvero 90 km orari come cambia il vostro lavoro di polizia locale ovvero troveremo ancora le pattuglie le vostre pattuglie ai bordi della strada con gli strumenti mobili? per gli strumenti mobili sì ovviamente cambia poco ovviamente la cosa importante è la segnalazione delle apparecchiature quindi ben evidenti con segnalazioni almeno un chilometro prima del posizionamento dello strumento e ovviamente sempre la presenza degli agenti accertatori per tutti i comuni insomma stop all'utilizzo degli autovelox per fare casse da parte nostra di agenti di polizia stradale la consideriamo diversamente perché comunque è un ottimo deterrente per ridurre la velocità il mondo della scuola e l'associazione nazionale magistrati in un progetto di alternanza scuola-lavoro davvero speciale gli studenti del liceo Lilla di Francavilla ospiti del tribunale di Brignisi per la simulazione di un processo penale Michele Iurlaro C'è un'accusa grave di minacce molesti e lesioni sostenuta dal pubblico ministero c'è un imputato alla sbarra per subire un giusto processo c'è una vittima che con coraggio ha deciso di denunciare c'è un giudice anzi tre in collegio saranno loro ascoltate le testimonianze e analizzate le prove raccolte a decidere a condannare o ad assolvere una simulazione di processo in piena regola si è svolta nell'aula metrangolo del tribunale di Brindisi spettatori eppure protagonisti sono stati gli studenti del liceo classico Lilla di Francavilla Fontana ospiti dell'Associazione Nazionale Magistrati e parti attive di un progetto che profuma di cultura della legalità e che mostra il vero valore della cittadinanza attiva abbiamo accolto con grande entusiasmo la richiesta formulataci dall'avvocato Romata di poter consentire a dei giovani studenti di partecipare alla simulazione di un processo penale richiesta che ci è sembrata meritevole di essere accolta perché i ragazzi possano avere una percezione diretta di che cosa è la giurisdizione penale e di quali possono essere i fatti che la possono attivare fatti dai quali è auspicabile che rimangano lontani per tutta la durata della loro vita perché il processo penale ha dei costi che sono costi economici ma soprattutto costi sociali e di sofferenza destinati a pesare ancora di più e a essere ancora più preclusivi su un giovane di 18, 19 o 20 anni insieme ai ragazzi del mondo della scuola al progetto hanno partecipato avvocati cancellieri personale magistrati forze dell'ordine tutti ancora una volta dalla stessa parte la parte giusta perché molte volte questi ragazzi non sono consapevoli che ad una loro azione che può sembrare un'azione di poco conto ci sono poi dei risvolti negativi non soltanto a un punto di vista penale ma nella loro vita ma è la prima volta che i ragazzi hanno la possibilità di simulare un processo e questo è sicuramente significativo per la loro esperienza si è svolto un giusto processo in una calda mattina di fine maggio nell'aula metrangolo del tribunale di Brindisi velocemente andiamo sul quotidiano l'edizione di Taranto perché c'è un'inchiesta che farà felici i tarantini che sono felici stando a questo report città e futuro vedete tarantini tra i più felici d'Italia anzi tra i primi 250 del mondo lo studio della Happy City Index che ogni anno valuta quasi 700 grandi città dall'Europa all'America e realizza una graduatoria per l'indice di felicità dei residenti Taranto si piazza al 211esimo posto Taranto dunque tra le città più felici del mondo questo dice la ricerca seguendo la graduatoria stilata dalla Happy City Index i più felici del mondo sono coloro che vivono in Danimarca e poi c'è tutto l'elenco che troverete sull'edizione di Taranto del quotidiano secondo posto Zurigo terzo posto Berlino quarto posto Gothenburg Svezia quinto posto Amsterdam in Olanda Helsinki in Finlandia settimo posto Regno Unito Bristol con esattezza poi Copenhagen in Danimarca Ginevra in Svizzera e Monaco di Baviera in Germania queste sono le città dove si è più felici secondo questa particolare classifica cambiamo argomento a Foggia dopo nove anni sbloccati lavori urbanistici in via Almirante abbiamo subito provveduto con questo intervento perché ci permette di sbloccare un appalto ma cosa ben più importante dare compimento all'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria attese da decine e decine di cittadini che in quegli ambiti in quella zona hanno fatto degli investimenti per la vita finalmente approvato il progetto del prolungamento di via Almirante a Foggia atteso da residenti e fruitori di zona da anni si tratta di un passaggio che avrebbe dovuto essere seguito sin dall'anno 2015 risparmiando un decennio di disagi ai residenti della zona si tratta di lavori con i quali verranno realizzate importanti opere di urbanizzazione primaria come strade marciapiedi pubblica illuminazione fogna bianca intanto per ulteriori interventi di ripristino delle strade la città da qualche settimana è un cantiere a cielo aperto a Foggia c'era ahimè il mal costume di effettuare lavori di sottoservizi ma poi posticipare spesso a data da definirsi gli interventi di ripristino definitivo questo non è più possibile e come sta accadendo in questi giorni in queste settimane quasi ormai da un mese ci sono i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale imponenti Enel da sola sta eseguendo oltre 103 interventi di rifacimento stradale ma non è l'unico ente gestore dei sottoservizi perché anche Wind 3 sta operando nei giorni scorsi ha fatto un intervento importante molto lungo su via Manfredonia con un ripristino devo dire anche ben fatto di una semicareggiata anche seguendo la segnaletica orizzontale quindi i lavori in corso sono lavori che puntano a pretendere dagli enti dei sottoservizi il rispetto delle condizioni di concessione IV incluso il ripristino definitivo delle strade ora una ricca pagina sportiva poi torniamo ancora in diretta con il nostro telegiornale Rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo